Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, sulla FIPILI. Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, personale su strada per lavori in direzione Firenze tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno e tra Livorno-Porto e Livorno-Aurelia, e operai a lavoro anche allo svincolo di Ponte d'Era Ovest-Ponsacco. In A1 controllo della velocità attivo nel tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. Sulla statale Trebis-Tiberina lavori nel tratto compreso tra Resina e Sansepolcro Sud in entrambe le direzioni. Ricordiamo che dal 15 novembre è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali a bordo. Chiudiamo con gli aerei, il volo Ryanair Pisa-Bari delle 19.45 decollerà alle 20.05. Ovest in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!